signore e signori buonasera buonasera a tutti e benvenuti al lancio dell'alfa romeo mito questa questa vettura fissa una data molto importante nel calendario dell'alfa romeo io vorrei iniziare ringraziando tutti gli ospiti convenuti che sono stati sono qui numerosi anche per sottolineare proprio questa importanza vorrei ringraziare tutti gli ospiti della stampa vorrei ringraziare i miei colleghi del gruppo fiat vorrei ringraziare il dottor marchionne e il presidente montezemolo per essere qui con noi stasera la loro presenza ci onora e come dicevo prima sottolinea ancora di più l'importanza della data del lancio dell'alfa romeo mito perché è importante innanzitutto perché questa è l'auto che darà in qualche maniera larghezza al marchio alfa romeo facendoci entrare in una fascia di mercato dove fondamentalmente non siamo mai stati e anche perché è la prima tappa di un rilancio del marchio che ci vedrà tra pochi mesi tra l'altro celebrare il primo centenario di storia di alfa romeo questo percorso evidentemente non poteva che iniziario iniziare proprio dove l'alfa romeo è nata oggi infatti con con questo incontro al castello sforzesco vogliamo anche rendere omaggio a milano vogliamo rendere omaggio alla alla sua cultura della operosità della laboriosità tipica dei milanesi alle capacità realizzative al culto delle idee che questa città ha sempre espresso anche andando molto in là nel nel tempo non voglio non vorrei scomodare leonardo da vinci che come sicuramente sapete ha trascorso il periodo più lungo della sua vita proprio qui e che come vedrete anche un pochino ispirato la coreografia di questo di questa presentazione penso soprattutto ai ai giorni nostri penso ai giorni nostri in cui la laboriosità di questa città veste i panni dell'alta moda del design della comunicazione e dei tanti settori in cui milano è oggi ed è divenuta un punto di riferimento in in tutto il mondo ecco tra le medaglie che milano può appuntare al petto c'è di diritto l'alfa romeo alfa romeo una marca speciale alfa romeo una marca speciale non è mai stato un brand per tutte le esigenze ci sono dei marchi che si alimentano io direi anche giustamente dalla loro capacità di leggere il mercato e così di soddisfare le più diverse richieste e altri come l'alfa con un'attitudine differente più concentrata su se stessa e sulla missione che attribuisce e che si attribuisce l'automobile e magari che si rivolge si rivolge a delle persone che condividono la stessa visione dell'automobile alfa se posso utilizzare questo parallelo è un po come un attore che preferisce il teatro al cinema perché per lui recitare vuol dire stare a contatto con il suo pubblico ed è proprio lì che dà il suo meglio questa che potrei definire così usando una parola un po forte forse questa questa ortodossia da anni da decenni ha contagiato centinaia di migliaia milioni di persone addirittura portandole a distinguersi con un sostantivo che è abbastanza raro gli alfisti ci sono poche marche che hanno questo privilegio al mondo e quindi si è creato un gruppo di tifosi che pochi altri brand nel mondo possono vantare e voi lo sapete no qui ce ne sono alcuni seduti che lo sanno molto bene solo per darvi un paio di numeri oggi ci sono 300 club ufficiali dell'alfa romeo in giro per il mondo vi dico anche che ce ne sono sempre solo negli stati uniti ce ne sono 100 tanto per dirvi quanto è forte questo marchio anche in luoghi in mercati dove noi non siamo presenti da anni commercialmente questa è l'identità di cui noi vogliamo riappropriarci da oggi e di cui Milano è un simbolo storico è il luogo più tardi uscendo da qui vi invito a alzare la testa e alzare gli occhi e a guardare sulla torre del filarete dove c'è il biscione che quasi 100 anni fa ispirò a un giovane disegnatore dell'alfa romeo il logo originale della marca e anche mito anche mito nel nel suo nome ci riporta in questa città vorrei dire anche per ricomporre idealmente quello strappo che si era creato tanti anni fa quando l'alfa romeo venne spostata credo che la presenza dell'amministratore delegato del nostro presidente siano anche a significare che abbiamo colto il senso dell'importanza il senso di autenticità che deriva dal fatto di voler riportare alfa romeo in questi luoghi e verso quello che rappresentano non fosse altro che per una presentazione di prodotto come questa che da tanti anni non non organizzavamo a Milano vi devo anche dire dare una notizia che probabilmente avrete così sentito è che noi l'anno prossimo inaugureremo proprio nelle vicinanze di questa città un grande centro il nuovo cuore dell'alfa romeo quando dicono le vicinanze parlo parlo di arese che è proprio qui alla periferia di Milano e che dicevo come dicevo diventerà tornerà ad essere il grande cuore dell'alfa romeo io adesso non voglio aggiungere altro perché sarà una grande sorpresa per tutti per la ricchezza delle attività per l'importanza del del progetto stesso il nome mito ci è stato suggerito da una lettrice tedesca nell'ambito di un concorso internazionale che noi abbiamo organizzato tra i vari magazine automobilistici più importanti in Europa ma lo abbiamo scelto perché ci rammento una cosa molto semplice e cioè che l'alfa romeo è un mito gente come voi e come me appassionati di automobili sa benissimo che l'alfa romeo è una di quelle marche che ha costruito la storia dell'automobile uno dei grandi del nostro passato orrazio satta pulica aveva vedeva l'alfa romeo quasi come una malattia chiamiamolo l'alfismo e la definiva come un tratto irrazionale dello spirito umano che non può essere spiegato con una terminologia logica ebbene il mito dell'alfa romeo nasce da dall'orgoglio di gente come satta pulica di grandi tecnici come come lui persone che lavoravano per ottenere il meglio da quello che la tecnologia in quel momento potesse offrire e io da quando sono in alfa cioè 5 6 mesi ho sentito un sacco di storie e ho letto un sacco di storie di questi grandi personaggi delle storie che danno anche la dimensione anche un pochino eroica del modo in cui lavoravo